Dopo il knockout con L Inter in semifinale della Champions League, il Milan coach analizza l'eliminazione torrida di Inter su Sky Sport ci siamo persi nella prima tappa, oggi abbiamo iniziato bene, creando 23 possibilità che avrebbero potuto cambiare tutto. È un peccato siamo arrivati qui con grande merito e speravamo di raggiungere la finale. Facendo per tre anni. Sarebbe stato eccezionale arrivare alla finale, anche se conta chi vince. Nella gamba, due centrocampisti, eravamo meno pericolosi.Oggi abbiamo sollevato il Tonali cercando di trovare parità numerica con i loro 5.1 obiettivo, difficile parlare modo negativo.Quest'anno una Great Champions League, quindi chiaro che uscire in semifinale, inoltre un derby, normale essere delusi.I rimpianti sono soprattutto per il campionato, che ora dobbiamo provare a finire bene e quindi riavviare più certezze. A Mediaset nel post Milan.Sfortunatamente condizionato questa semifinale con primi 15 minuti prima gamba, poi il resto eravamo in una squadra molto forte, abbiamo avuto due possibilità di sbloccarli oggi.Non posso rimproverare i miei giocatori per nulla ci provato con tutto ciò che avevamo.Ora dobbiamo finire bene il campionato, sarebbe un peccato.I rimpianti sono chiaramente primi minuti della prima gamba, ma poi L Inter ha vinto entrambe le partite, non davvero dominanti.Oggi molto più simile alla seconda metà gamba.Quindi non siamo stati in grado di segnare.Stavamo andando bene con le posizioni, mancava di qualità precisione.Li stavo preparando e abbiamo concesso obiettivi, poi il gioco era quasi lì.Ci abbiamo provato oggi, ma non eravamo così precisi lucidi.In questi giochi, Inter segna gli obiettivi statunitensi nelle prime situazioni, non siamo stati in grado di fare la stessa cosa.A Milan.Abbiamo un buon primo tempo qui avuto l'opportunità di prendere comando comando, comando avere successo.La partita è una grande delusione, volevamo andare finale, sfortunatamente ci siamo riusciti.Ci sono rimpianti, avremmo potuto segnare l'obiettivo di cambiare gioco.Se queste partite sei cima, allora diventa difficile.Non le AOC ma queste due partite.Penso che la squadra sia rimasta così fino alla fine.Oggi abbiamo giocato in squadra e mancavamo di precisione e velocità.Sfortunatamente non si è concluso con un risultato favorevole.Penso Milano abbia cercato di competitivo sia campionato Champions League, dove hanno lavorato fino alle semifinali.La stagione ci sta insegnando molto.Abbiamo capito alcune situazioni possiamo sviluppare e migliorare per essere più forti.L'obiettivo è competitivo entrambe le competizioni.Se alla fine non giochiamo Champions League prossimo anno non sarà una stagione positiva.Dobbiamo finire bene il campionato, ci sono rimaste tre partite e dobbiamo recuperare ritardo con qualcuno e davanti a noi.